Tamiya, Thunder Dragon Offroad 4WD edizione 2021, modello in kit di montaggio in scala 1 a 10, compreso di regolatore elettronico. Kit in scatola di montaggio Mercedes-Benz Unimog 406-1900, telaio CC02 4WD in scala 1 a 10. Uina, Ruspa radiocomandata in scala 1 a 24. Kit Aleri, kit statico in scala 1 a 72, Alenia C27J Spartan, Revell, kit statico in scala 1 a 24, Jaguar E-Type Roadster, Asegava, kit statico in scala 1 a 24, Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Blue Lagos. E' finalmente tornato disponibile l'elicottero Ninja 250 radiosistemi. Tamiya, Taglierino Pro con 4 differenti lame, Aoshima, kit statico in scala 1 a 43, DeLorean, Ritorno al futuro parte prima, parte seconda e parte terza.